Il problema dei pronto soccorso in Calabria è atavico. Nessuno dei presidi ospedalieri dislocati sul territorio regionale può vantare di vivere una situazione, diciamo così, di normalità. Ovunque la carenza di personale è urlata a gran voce dai management che di volta in volta si sono assunti l'onere di governare la sanità. Ora alcune di queste situazioni che si verificano sono al limite della sostenibilità. Prendiamo il caso dell'ospedale dell'annunziata di Cosenza. Qui il reparto del pronto soccorso è da tempo in agonia. Si lamentano tutti, sanitari e cittadini. Sono anni che la questione non trova soluzione. I numeri di medici ed infermieri in servizio sono palesemente insufficienti. Tenuto conto che nel pronto soccorso di Cosenza si erogano mediamente 100 prestazioni al giorno, va da sé che per rispondere alle istanze degli utenti occorrerebbe avere una nutrita compagine di sanitari. A dire il vero, spulciando il sito dell'azienda ospedaliera, si scopre che nella tabella di servizio del pronto soccorso figurano 19 medici, che però nel tempo, a causa di trasferimenti e altro, si è ridotto a 6. Non certo l'optimum per un reparto sempre così affollato. Non a caso i vari responsabili della struttura, che di volta in volta si sono susseguiti, hanno cercato di porre rimedio alla carenza di personale con soluzioni tampone. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda cardiologi e neurologi. Sono davvero queste le soluzioni per porre rimedio ad un problema tavico? Beh, forse no. Se veramente si vuole mettere mano al reparto, bisogna procedere con le assunzioni, liberando il sistema sanitario calabrese dal blocco del turnover e magari vincolando a 5 anni la permanenza nel reparto di pronto soccorso, in modo tale da mettere al riparo la struttura dai trasferimenti, giusti o sbagliati che siano, che al momento rappresentano il nocciolo vero della questione.